Leggera da parte di Paria Chiara e tutta la famiglia, adorato Alessandro, ci hai lasciato così all'improvviso che non abbiamo avuto il tempo di dirti quello che sente il nostro cuore, perché si pensa sempre che ci sia un domani per farlo. Troppo spesso, presi dalla quotidianità, non ci accorgiamo delle persone e di quanto riempano la nostra vita. Tu eri per noi forza, determinazione, altruismo, spensieratezza, ma eri anche un punto di riferimento per tutti noi. Eri un esempio di laboriosità, dedizione, per la tua famiglia. Eri la nostra ventata di positività e allegria. Sei entrato nel cuore di tutte le persone che ti hanno incontrato, anche per un solo istante, grazie alla tua disponibilità, alla tua prontezza nel dare una mano. Parenti, amici, tutti, ti ricordano e ti ricorderanno sempre come il ragazzo, vivace, solare, scherzoso, dispettoso, rassicurante, volenteroso, affidabile. Vogliamo dirti grazie di esserci stato per noi così. Per questo, anche se lasci un vuoto incolmabile, la tua presenza non ci mancherà mai, perché abbiamo imparato da te i valori, i principi che illumineranno la nostra vita. Sarai per noi la nostra forza, la nostra guida, il nostro Alessandro, il nostro Angelo. Il tuo sorriso rimarrà in tutti noi. Ciao Ale.